La notte scorsa l'ultima asfaltatura, domani sabato 6 aprile l'inaugurazione alle 11 con intitolazione alla memoria di Enrico Berlinguer. In questi primi giorni di aprile si è completata la realizzazione della circonvallazione di Muraglia, un'opera strategica della viabilità pesarese che di fatto completa il versante meridionale della strada interquartieri unendo in un percorso rapido strada Pantano Castagni con via Lombroso e di fatto i quartieri di Cellette e Santa Veneranda con Muraglia anche nella prospettiva della realizzazione del nuovo ospedale. Circonvallazione completata dal cantiere di Amplia, ditta di società autostrade, che ha realizzato la strada come opera compensativa della terza corsia della 14. Un'opera vissuta a step di intervento con una intensificazione di lavori dall'autunno 2022, periodo in cui strada Carlodi venne chiusa anche per quattro mesi consecutivi. Dopo una serie di stop and go di chiusura oggi si sta liberando il cantiere prima dell'inaugurazione prevista per domani 6 aprile alle 11 con il taglio del nastro del sindaco Ricci e l'intitolazione Enrico Berlinguer alla quale parteciperà anche l'ex presidente del consiglio Massimo D'Alema. Il completamento dell'opera consentirà di alleggerire il traffico da via Flaminia e via Fratti e trovare una nuova unione rapida anche a livello ciclabile fra la Cellette e l'ospedale. Da Muraglia poi il piano di opere compensative di società autostrade si sposterà a Santa Veneranda per la realizzazione della bretella, poi il raddoppio dell'urbinate e la bretella che dalla Monte Labattese si collegherà al casello. L'ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda.